Io sono Manuela Leggeri, capitano della Nazionale, e lei è la mia nipotina. Me la porto all'allenamento, voglio che si innamori dello sport perché è un modo sano di crescere. Lei dice che presto insieme vinceremo tutto, intanto insieme facciamo la stessa merenda. Kinder Fetta al Latte è il sandwich al latte, miele e pan di spagna, per chi vuole nutrirsi bene e per chi vuole restare leggero. Kinder Fetta al Latte, il sandwich al latte. Se ti capita di sentire le tue gambe gonfie e pesanti, fai qualcosa per loro. Oggi c'è Antistax, grazie ai flavonoidi contenuti nelle foglie di vite rossa. Antistax aiuta le tue gambe a stare bene. Antistax, dalla vite, gambe vitali. Strappa la busta e gusta. E tonno riumare fresco sapore. Una novità in busta, facile da aprire, senza sgocciolare. Squisito tonno pronto da gustare. Riumare fresco sapore. Strappa la busta e gusta. Da mulino bianco, i giochi indiani di Spirit. Per creare e giocare come un vero indiano. Dipingiti la faccia, decorati le braccia, le unghie, i vestiti. Che miti. I giochi indiani sono dieci, uno in ogni confezione. Da mulino bianco. E' triste che i nostri cani invecchino sette volte più velocemente di noi. Anche i loro denti mostrano i segni del tempo. Ma tu puoi rallentare un effetto del tempo sui suoi denti dandogli Yams con Dental Care ad ogni pasto. Il cibo in scatola non limita l'accumularsi del tartaro. Yams con Dental Care invece lo riduce fino al 32%. Così lo manterai più sano, più a lungo. Yams, una vita di benessere. E un chilo di Yams equivale a dieci lattine. Per questo conviene. Kinder Paradiso Ogni giorno il tuo attimo di paradiso. L'ascensore è bloccato. Anche quando sei di corsa la tua pelle resta asciutta. Attivo in ogni situazione. Nivea Deo Dry. Più efficace, più delicato, più nivea. Da EV Matic. Soluzione brillante. Ma papà, la merenda! Ho fatto la spesa. Ma non è Kinder Brioche. E' questa. La tengono tante ore sotto un tuvaliolo. Poi, in mezzo, c'è tanto latte. Kinder Brioche è come una mamma, se ne è una sola. Benvenuti a Discovery Prata. Anche gli orsi del Chispios preferiscono la naturale leggerezza di Acqua Prata. Acqua Prata. E alla prossima puntata. È fresco. È nuovo. È arrivato. Nuovo Ringo gelato. Goloso gelato alla vaniglia. Tra un biscotto bianco e uno nero. Nel gelato. Vince Ringo. E la grande beffa avvia inizia. Il mondo è in pericolo. Il nostro uomo è in posizione. Solo lui può salvare l'umanità. Squadra, la gente. Ma non è facile. Pierce Brosnan è... James. Questa è la missione più dura. Sono in tempo. Mai. Che diavolo sta facendo? Il suo lavoro. 007. Il domani non muore mai. Giovedì 20 e 55. Rai 1. Perché lo strauso della posizione di Berlusconi dal processo SME ha creato tante polemiche? Il Presidente del Consiglio si troverà ad essere giudicato una o due volte. Perché il Vice Presidente del Consiglio Gianfranco Fini ha detto che le toghe rosse condizionano la vita politica italiana. Alla fine del film ne parleremo a porta a porta con Domenico Dania, Presidente dei senatori di Alleanza Nazionale. Con Willer Bordon, Presidente dei senatori della Margherita. Con Francesco Nittopalma di Forza Italia. Con Guido Calvi dei Democratici Sinistra. Sentiremo anche Ghedini, il difensore di Berlusconi e il Presidente della più importante corrente della magistratura. Porta a porta più tardi.